Romani, nulla facenti o quasi? Lo dico io, veniremo a fare i mendicati. Scopriranno di essere pronti a tutto per inseguire un sogno. Andrebbe da andare alle Olimpiadi? A fa' che? A gioca. A chi? A Carlo. Quanto mi date? 3.000. No, siamo 3. Non vinceranno le Olimpiadi. Sei fatto licenzione. Ma qualcosa nelle loro vite cambierà per sempre. Come fai i timidi? No. Edoardo Leo. È la prima volta in vita nostra che abbiamo finito una cosa. Ricky Memphis, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari. Vinci. Come rovi. Per il ciclo così italiani, La Mossa del Pinguino. Questa sera alle 21.15, Rai 3.